Era un vertice molto atteso, ma l'esito è stato poco convincente. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel tornano da Pechino dopo aver incontrato il leader cinese Xi Jinping con scarsi risultati e senza nessun nuovo accordo. Il tema principale era l'enorme squilibrio commerciale tra Cina ed Europa, circa 400 miliardi di euro a favore di Pechino. Una situazione provocata anche dai sussidi statali alle imprese cinesi, a cui serve porre rimedio presto. Secondo von der Leyen non si può più fare finta di niente. Le tensioni tra Bruxelles e Pechino sono aumentate nell'ultimo anno, con l'Unione che cerca di ridurre i rischi dati dalla sua dipendenza economica nei confronti della Cina. La Commissione europea ha avviato un'indagine sulle auto elettriche prodotte in Cina con sovvenzioni statali. Una mossa evidentemente poco gradita al presidente Xi Jinping, che ha messo in guardia l'Europa dall'attuare politiche commerciali protezionistiche, pur senza chiuderle la porta in faccia. Per questo analista di Merix, un think tank attualmente sanzionato dal governo cinese, il Vertice non ha prodotto molti risultati concreti, ma segna quantomeno un cambio di tono da parte dei leader europei. Se la Cina non agisce, l'Unione prenderà l'iniziativa. Si sembra che l'EU ha portato a tavola il fatto che la Cina veramente voglia di incontrare costruttivamente, e se non, si prenderà aczioni. E' molto molto un signale che l'EU sta aspettando di aczioni di succedere pronto sulla Cina. Se non, la nostra relazione può essere un po' più complessa in termini di risposta europea. Cooperazione contro il cambiamento climatico e scenari geopolitici sono stati gli altri temi del Vertice. Con l'Unione Europea che chiede alla Cina collaborazione per porre fine alla guerra in Ucraina, evitando di aiutare la Russia ad aggirare le sanzioni occidentali.